Allora, solito pezzo iniziale con le news, non voglio però tediarvi troppo, ho solamente una grandissima, unica news da raccontarvi che è l'inizio di Ultra Pop Festival. Cos'è Ultra Pop Festival? È un festival organizzato da Net Addiction, che è il gruppo editoriale di cui fa parte anche Lega Nerd. In pratica, leganerd.com, movieplayer.it, multiplayer.it, cioè l'anima pop, cinema e serie e videogame del gruppo Net Addiction, si sono unite per creare questo festival digitale gratuito che nella pratica inizia lunedì 13 luglio, finisce domenica 19 luglio, quindi sette giorni pieni, dalle 3 del pomeriggio, dalle 15 fino alle 22 di sera, tutti i giorni, tantissime live, tantissimi talk, tavole rotonde, interviste, approfondimenti, insomma tantissimi panel, uno ogni ora, più o meno, dalle 3 alle 10 di sera. Fantastico, veramente bellissimo, su argomenti ovviamente dei più disparati, tre palinsesti in contemporanea sui tre siti e sui tre canali Twitch relativi di Lega Nerd, di multiplayer e di movieplayer. Non posso fare altro che ovviamente super consigliarvelo, ci siamo fatti un culo atomico per mettere in piedi tutto quanto a questa baracca, non è ancora neanche iniziato e sono già devastato, spero veramente di arrivare vivo alla domenica finale, domenica 19, in ogni caso si inizia come vi dicevo lunedì 13, state con noi veramente tutta la settimana, so che magari siete al mare, siete in giro, siete a lavorare, dove vi parli? Vi basta aprire lo smartphone, vi basta aprire il computer su Twitch e guardare le nostre dirette. Non solo però, se invece non potete guardare le dirette non è un problema perché tutti quanti i panel singolarmente verranno messi in differita, poi sia sul canale Twitch che sui canali YouTube di ogni sito che vi ho nominato, quindi arriveranno sul canale YouTube di Lega Nerd, sul canale YouTube di multiplayer e sul canale YouTube di movieplayer, tutte le repliche che potrete guardarvi con calma il giorno dopo, la settimana dopo, il mese dopo, quando vi pare. Io ovviamente parlo del programma di Lega Nerd, abbiamo tantissime robe, parliamo di scienza con tantissimi panel dedicati all'astronomia, alla biologia, alla medicina, alla meccanica, parleremo di tecnologia con due panel miei dedicati ai nuovi YouTuber tech, che credo vi interesserà particolarmente, e un altro invece dedicato al futuro di Apple, viste tutte le ultime novità, credo sarà veramente molto interessante, intervisterò domenica Luca Parmitano, l'astronauta, colonnello, mitico, mitico Parmitano, per cui lì ci sarà da ridere veramente, perché voglio fargli un'intervista sicuramente fuori dalle righe, sicuramente fuori dalle solite interviste che si fanno agli astronauti, giocheremo di ruolo, farò da master a Roby, a Giovanni e a Gabriella, una campagna pensata appositamente per Twitch, lunedì, mercoledì e sabato, 7 ore totali di gioco di ruolo live, con anche voi che potrete partecipare attivamente, lasciando commenti, insomma in maniere molto particolari, che vi racconterò a partire da lunedì, ci saranno anche altri format, molto, credo io, così, interattivi, particolari, ci sarà per esempio Giacomo Locarini che vi leggerà un libro game e vi chiederà a fine di ogni pagina di dirgli come proseguire il racconto, quindi così, una roba interattiva fatta live, ci saranno diversi panel legati all'entertainment, al cinema e alle serie tv, curati in particolare da Gabriella, ma non solo, con ospiti fantastici, ci saranno moltissimi panel di Giovanni legati al fumetto, al mondo del fumetto, anche lì con ospiti fantastici, andate a vedere il programma ultrapopfestival.it, è già online, è già disponibile, potete già aggiungere i panel che preferite al vostro calendario personale, e cominciare a costruirvi tutta quanta la settimana, alternando appunto tra i palchi virtuali e i canali Twitch di Lega Nerd, di Movie Player e di Multi Player. ultrapopfestival.it, mi raccomando ragazzi!